Il momento di Serenella Fait. Serenella Fait frequenta l'ottavo corso di pianoforte e si presenterà agli esami statali alla fine di giugno. Serenella presenterà una sonata molto festosa e anche molto nota di Domenico Scarlatti. Seguirà del romanticissimo a Mendelssohn uno studio, uno studio sugli arpeggi e infine il capolavoro forse di Debussy, Giardini sotto la pioggia. Questo è un brano impressionistico in cui possiamo proprio immaginare e sentire la pioggia che comincia a cadere delicatamente e man mano che aumenta fino allo scroscio finale. Allora Serenella Fait al pianoforte. Grazie a tutti. 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 fare? Io so che tu hai fatto anche il liceo scientifico, l'esito è stato ottimo. Cosa pensi? Che il tuo lavoro sarà nel settore musicale o in altro settore? Io mi auguro di poter trovare lavoro in un domani nel campo musicale o a livello dell'insegnamento o insomma come interprete musicista, ma fin là si vedrà con gli anni. Grazie a tutti.